Un'altra accelerata delle comune di Tavuglia sul consumo sostenibile dell'acqua e dell'acquedotto. Ario Salso è stata inaugurata nei giorni scorsi la quarta casetta dell'acqua sul territorio comunale dopo quelle precedentemente poste al centro del paese e nelle frazioni di Babucce e Padiglione. La quarta casetta è stata collocata in via tagliamento e al taglio del nastro, oltre alla giunta comunale e al presidente di Marche Multiservizi Pierotti, hanno partecipato anche numerosi cittadini e i bambini della società sportiva Valfoglia. Una bella giornata oggi per il comune di Tavuglia e la comunità in particolare di Rio Salso perché è la quarta casetta dell'acqua del comune, quindi abbiamo coperto tutte le frazioni. Di questo c'è grande soddisfazione dell'amministrazione ma anche dell'azienda che ci consente con queste operazioni di veicolare dei messaggi importanti, quello del valore dell'acqua stessa, in particolare in stagioni critiche come quella di quest'anno e quindi il fatto che ci si può approcciare all'acqua dell'acquedotto, al rubinetto, bere l'acqua tramite le casette ma anche quella del rubinetto perché sono acque buone, Marche Multiservizi le controlla, fa 320 analisi al giorno con un laboratorio di analisi all'avanguardia e per cui il consiglio è quello di, sia perché si risparmia ma soprattutto per il vantaggio alla sostenibilità ambientale, quindi così facendo si riduce il consumo della PET, della plastica e appunto si consuma acqua corrente con un vantaggio sia per il portafoglio che per l'ambiente, per cui siamo contenti di collaborare insieme alle amministrazioni e a lato a iniziative di questo genere, di valorizzazione di una risorsa molto preziosa per il nostro territorio. Acqua di qualità, ad alto controllo, ad azzeramento di utilizzo delle plastiche e a impatto economico ridotto come vuole la tariffa di 5 centesimi al litro. Abbiamo fatto varie scelte in questi anni, la prima è stata quella di regalare per bene due anni delle borracine all'interno delle classi, noi abbiamo 500 alunni, ad ognuno di loro abbiamo regalato queste borracce che possono riempire loro stessi la mattina a scuola perché abbiamo installato in tutte le scuole di Tavuglia degli erogatori dell'acqua e quindi non c'è più bisogno di utilizzare plastica o altro. Poi abbiamo installato la prima casetta dell'acqua a Tavuglia, passando poi a Babucce e a Padiglione e abbiamo visto che l'acqua viene molto utilizzata, vediamo come i cittadini apprezzino questo servizio anche perché ricordiamolo costa veramente poco, un litro di acqua a 5 centesimi e quindi mancava acqua a Rio Salso e anche la scelta della posizione dove è stata messa la casetta è molto centrale perché ci troviamo vicino all'impianto sportivo di Rio Salso appunto dove vertono 300 bambini e tutte le domeniche ci sono le partite, quindi veramente un luogo trafficatissimo quindi speriamo che vedere questa casetta che poi è molto bellina, molto carina possa attrarre anche chi non ha mai provato l'acqua dell'acqueduto io la bevo ormai da anni ed è buonissima, con la frizzante veramente buona e fresca si sente che è priva di quel sapore plasticoso che hanno le altre acque e per quanto riguarda invece il disegno abbiamo collaborato e tra un mese presenteremo un libro fotografico su Tavuglia, a cui abbiamo lavorato ormai da un anno e abbiamo estrapolato una foto del fotografo Paolo Giucoso per riportarla qua quindi mentre le altre casette sono più anonime, sono omologate a tutte le altre questa casetta veramente la sentiamo nostra perché è stata appunto posta la foto delle cascate che ci sono da noi a Casa Bernardi Nell'occasione, grazie a Marche Multiservizi abbiamo regalato a tutti i partecipanti un cestino con sei bottiglie di vetro come ha detto Alberto Sebastiani è importante quando viene erogata l'acqua utilizzare bottiglie di vetro e non di plastica e non la usagetta e quindi non sono tante ma sei bottiglie da un litro a famiglia credo che sia un bel gesto per chi le volesse e non è riuscito oggi a venire o altro basta che ci chiami e riusciremo a darle anche a chi non è riuscito a prenderle grazie